Giustizia e letteratura Troppo rigido l'uno, il diritto, molto libera l'altra, la letteratura Non tutti la pensiamo così Io penso, con Gabriel Forti e con tutto il gruppo Che l'ipotesi di partenza di qualche anno fa sia ancora molto valida e giusta E cioè che il diritto e la letteratura in realtà hanno molto in comune Nella fattispecie oggi cercheremo di parlare, di raccontare un po' Perché poi di narrazioni sempre si tratta, su questo insistiamo molto Cercheremo di parlare un po' dell'aspetto del linguaggio E cioè il diritto e la letteratura hanno una matrice comune che è il linguaggio Ora questo può sembrare ovvio perché ogni diritto e ogni letteratura si servono di un linguaggio Che sia l'italiano, il francese, lo spagnolo o qualsiasi altra lingua Però esiste un legame più profondo e sottile Che è da un lato storico e dall'altro, potremmo dire, sovrastorico Passa attraverso i tempi Storicamente il diritto e la letteratura nascono da una formazione unica Che è la formazione delle scuole di retorica Nelle scuole di retorica dal V secolo a.C. nell'antica Grecia Fino ad oggi, fino a poco tempo fa Fino alle scuole pubbliche inglesi o ai licei italiani o francesi La retorica in un modo o nell'altro è stata la materia principe Quella da cui derivavano tutte le altre discipline Solo in un secondo tempo i tipi di retorica si distinguevano Per cui avevamo ad esempio una retorica giudiziale Che è quella che si usa nei tribunali E una retorica dimostrativa o epidittica, come la chiamavano i greci Che è quella che usano gli scrittori Però la matrice è la stessa, le figure retoriche sono le stesse Il modo di articolare il linguaggio è lo stesso Ma soprattutto, è un punto su cui insistiamo molto Giuristi e letterati in questa nostra ricerca È che sia il diritto, sia la letteratura Prendono da quell'insegnamento retorico La loro matrice etica Cioè per secoli, per millenni L'insegnamento della retorica, della lingua È stato un insegnamento di tipo etico Non aveva il senso, lo scopo Di formare qualcuno che sapesse mettere insieme delle belle frasi e basta O delle frasi eleganti Ma di formare il buon cittadino La virtù, la virtù civica Nasceva dalla lingua, dal buon uso del linguaggio E poi poteva essere adoperata in vari settori Questo è il punto che cercheremo di sviluppare oggi Questo senso etico del linguaggio Che oggi si va un po' perdendo nella società di massa Responsabili spesso i cosiddetti mass media O media che si voglia Perché coltivano un uso del linguaggio Che è spesso non preciso Ma potremmo dire di più Addirittura forviante in qualche caso Noi abbiamo parlato recentemente Gli amici giuristi ed io, noi letterati Della responsabilità della parola Cioè c'è una responsabilità personale È un po' come nel diritto penale se non sbaglio In cui la responsabilità è personale Ma è un tipo di responsabilità che tutti noi abbiamo Dovremmo avere con la parola In particolare quelli che sono preposti a funzioni pubbliche Ecco oggi penso che parleremo soprattutto di questo Più che lavorare su singoli testi letterari Che abbiano affrontato problemi di giustizia O procedimenti legali Grazie a tutti